Parla tifoso dell'Azzurra! Oggi vi riportiamo le ultime notizie sulla formazione del Napoli in vista del grande scontro contro l'Inter. Con San Siro, questa sera alle 20.45, i tifosi potranno aspettarsi una partita emozionante. Ma prima di iniziare, clicca mi piace e iscriviti se sei un vero napoletano. Secondo le informazioni di tuttomercatoweb.com, sulla formazione titolare alleggiano alcune incertezze, soprattutto per quanto riguarda Victor Osiman, recentemente recuperato da un infortunio muscolare. Il ritorno di Osiman in squadra è una notizia entusiasmante per i fan, ma la sua partecipazione dall'inizio è ancora sconosciuta. Raspadori emerge come il favorito per guidare l'attacco, insieme a Kvaraschelia e Politano, formando un promettente tridente offensivo. A centrocampo, oltre ad Anguissa e Lobotka, Traore si avvia verso la conferma, mentre Zilinski potrebbe essere escluso dalla formazione titolare. In difesa appare solida la leadership composta da Di Lorenzo, Ramani e Quangisus, mentre continua la battaglia per la fascia sinistra tra Olivera e Mario Rui, con l'uruguayano finora in vantaggio. Con Alex Meret a proteggere i pali, il Napoli è pronto ad affrontare la sfida con Grinta. La probabile formazione del Napoli per la sfida contro l'Inter è la seguente, Meret in porta, Di Lorenzo, Ramani, Quangisus e Olivera in difesa, la Anguissa, Lobotka e Traore a centrocampo, e in attacco Politano, Raspadori e Kvaraschelia. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti e analisi su questa entusiasmante partita. Forza Napoli sempre! Resta sintonizzata per ulteriori aggiornamenti e analisi su questa entusiasmante partita.